Intanto amici dei rispettatori, ascoltate questa musica ascoltate questa musica che ci riporta indietro del tempo una musica anni 60, 67 gli storici dicono grande canzone, che cos'è? Obladì, obladà, vi ricordate? Via tutti insieme! Obla! Su con la musica come ascolto in sala, grazie! Ecco! E noi abbiamo l'onore stasera di avere in collegamento in diretta da Londra un personaggio dei favolosi Beatles lanciando il suo ultimo disco Tripping the Live Fantastic cioè un viaggio dal vivo fantastico collegamento con Londra Paul McCartney Ciao! Grazie, grazie Ciao, bella mamma Ciao, ciao Grazie Grazie Tu parli molto bene l'italiano speak very well l'italiano Si, si, I speak very good Italian Si, senti anche dal mio accento Benissimo, bene, molto bene Dunque, ho visto lì la scritta fantastico fantastico quindi è arrivato anche a Londra Da dove parli tu adesso? Dove sei? Siamo a Londra Siamo vicini all'uscita della costata Emma 1 Per favore, dateci una mano Tirateci fuori da qui Siamo bloccati dentro Ma c'è molto pubblico attorno a te? Yes, yes Yes, there are people from a local supermarket Sì, tutta la gente siamo riusciti a trascinare qui dentro da un supermarket Da un supermarket Benissimo Va bene Senti, è vero che Stiamo appropriando del tuo spettacolo Pippo È vero, è vero Siamo noi, ti vogliamo molto bene Vogliamo appropriarci noi di te D'accordo, allora suonerò qualcosa a pianoforte Grazie, grazie Po, grazie Grazie, grazie Veramente grazie Fai tutto quello che vuoi Belong Belong Grazie 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 a tutti. 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 Un successo mondiale, Lady B. Grazie a tutti. 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 Ciao, ciao dall'Italia.